Siamo in compagnia di Sara Tommasi, tra i protagonisti di questo film in uscita nelle sale, Gli ultimi della classe, di Luca Biglione. Allora Sara, in questo film tu strissi un po' l'occhio alla Fennec della commedia italiana, fatti interpreti una supplente che fa girare letteralmente la testa ad un gruppo di giovani liceali. Che cosa ti ha divertito il più nell'interpretare questo personaggio e magari che lati del tuo carattere ha messo in luce? Allora, detto bene tu che sicuramente strizza l'occhio alla commedia anni 70, le Duitsch Fennec, che magari è come bellezza perché comunque è un'icona meravigliosa, però il mio personaggio è un personaggio sicuramente malizioso, ma un personaggio odierno, un personaggio che è molto più vicino alla commedia teenage, quindi degli giorni nostri. Perché è un personaggio che ha alle spalle un passato discutibile, perché ha fatto un calendario, però ha fatto un calendario per pagarsi gli studi, per diventare un insegnante. E adesso si troverà sui banchi di scuola come supplente e dovrà conquistarsi il ruolo di cattedra permanente. E qui entrerà in gioco il furbetto della classe, quello che per mostrarsi agli occhi di tutti il più figo di tutti, la ricatterà di divulgare la notizia del calendario se non si spoglierà e non si rifarà come nelle pagine del calendario. Chiaramente lei accetta, ma è un accettare con malizia, è un accettare con furbizia, perché in fondo riuscirà nel corso delle sue ripetizioni private a farlo studiare, a non concedere mai più di troppo e poi alla fine essere anche quel cupito che scoccherà quella freccia per fargli capire chi è la donna giusta per lui, che non sono io, quindi non è il sex symbol come lo vede lui da calendario, ma la ragazza, una ragazza, vedrete il film. E proprio per aiutare il protagonista di questa storia, che è Michele, cioè Andrea De Rosa, Sara si spoglia e posa per, diciamo, alcune foto, per ripetere il suo calendario, ecco, per interpretare questa parte, ti sei ispirata ad un personaggio in particolare o ti sei fatta aiutare da qualcuno? Allora sì, ci sono due scene di, insomma, spoglierello, una che è il sogno in cui lui mi sogna, l'insegnante che si spoglia per lui, e quindi è sicuramente la scena più bella, più maliziosa, e in questa scena mi sono ispirata a vari film, tipo striptease potrebbe essere, oppure anche a una ragazza, sono andata proprio da una ragazza che fa la stripper per mestiere di Rimini, e sono stata lì un pomeriggio a capire come ci si toglie una giacca, come si si sbottona una camicia, come si toglie una giarrettiere, insomma, sono passi importanti, poi chiaramente è solamente un gioco, quindi la Duta non è, non sono una stripper nel film, e quindi non c'è quella carica sensuale ed erotica che ha una stripper, perché è più, insomma, è più a sfregio che lo fa, è più per far capire a Michele che in fondo si sta spogliando, ma sarebbe meglio che non lo facesse, cioè lo vuole fare sentire anche un po' in colpa di questa situazione, di questo ricatto psicologico, quindi ci sono vari aspetti nel film, che non è poi così banale dello spogliarello, ma anche più introspettivo, più profondo, più particolare. A proposito di questo, quali sono appunto gli aspetti più profondi del personaggio che ti sei trovata ad interpretare? Sicuramente un personaggio che si è fatta da sola, che è venuta da una piccola provincia per studiare, per laurearsi, non è stato facile, dalla sua bellezza che è stata una carta o vincente o sicuramente non favorevole, perché da una parte gli ha fatto fare un calendario che comunque gli ha consentito di pagarsi gli studi e di mantenersi, dall'altra sicuramente è oggetto di ricatto e quindi vive male il rapporto con la classe, ha paura che questa notizia venga divulgata e sicuramente vuole riscattarsi, vuole ottenere la cattedra, dimostrando di essere all'altezza, non perché bella, ma perché ci crede, perché soprattutto ha studiato e si è fatta un mazzo così. Come hai detto tu, infatti il tuo personaggio è una ragazza di provincia, tant'è che questo film è ambientato a Viterbo. Io so che voi vi siete ritrovati sul set in un monastero a Viterbo, un cast di giovani ragazzi, appunto tu Andrea De Rosa, Nathalie Rapti Gomez, la Gorietti, ecco, come è andata l'esperienza con un cast di coetanei? Meraviglioso perché, grazie per il coetaneo, anche se sono più versi 30 che versi 20, meraviglioso perché ti fa vivere quell'età, quindi l'età dei liceali, l'età della spensieratezza, l'età della mangiare i kinder al pomeriggio, i panini, mentre invece magari uno crescendo sono abitudini che dimentica, le patatine, no? Ogni momento durante il set c'era qualcuno che tirava fuori un kinder, un cioccolato, una patatina, sempre a mangiare, bere Coca-Cola, cioè proprio l'atmosfera goliardica, lo scherzo, la battuta, la spensieratezza, questo era meraviglioso, poi devo dire la vita di set è una vita molto rigida, molto monastica, cioè ci si va a dormire presto perché la mattina ci sveglia alle 5 e mezza, alle volte uno non si riesce a svegliare, quindi non si esce, tranne che noi alle volte sgattaiolavamo via, andavamo magari in qualche tavernina locale a mangiare e farci quarto risate, però devo dire che è stata una bella esperienza che ti dà molto anche a livello umano perché il set permette di conoscere bene gli attori con cui ci si lavora e quindi nascono anche delle simpatie personali profonde, insomma. Questo è stato il tuo debutto cinematografico, tu nasci come VJ per All Music, hai fatto televisione come schedina per quelli che è il calcio, Papieretta per Paperissima, poi hai fatto l'Isola dei Famosi, ecco adesso quali sono i tuoi obiettivi futuri? Vorresti continuare la carriera di attrice? Assolutamente sì, con tutto il cuore, è sempre stato il mio sogno, quest'anno mi sono messa, dopo tanta televisione mi sono messa a studiare di Buonalena, ho studiato parecchi, insomma sotto vari aspetti, sia la Bracco a Roma, ho fatto un seminario con la Strasberg, che è l'Anna Strasberg, la moglie di Strasberg, poi ho fatto un seminario con un coach americano, insomma di tutto e di più perché comunque sono abituata a studiare sin dai tempi dell'università, quindi ho capito che se volevo iniziare una carriera bisognava farlo in modo serio, in modo professionale e in modo autentico e quindi spero di continuare e di ottenere anche dei ruoli diversi, anche drammatici perché io sono una persona che nella mia vita ho sofferto molto e secondo me dalla sofferenza si capiscono e si creano tante situazioni, si può riuscire a dare, a trasmettere tanti messaggi che possono essere di aiuto e servire, comunque mi piacerebbe interpretare dei ruoli tosti, profondi e anche altri ruoli, insomma. Hai qualche modello di riferimento, qualche attrice alla quale ti piacerebbe assomigliare o dalla quale pensi di poter imparare? Ma sicuramente l'attrice che più adoro dei tempi dei tempi è la Sofia Loren, dalla Sofia Loren un'altra attrice che apprezzo moltissimo e stimo moltissimo è la Bellucci anche perché è conterranea, anche lei è di città di Castello, vicino Terni e poi è attrice americana, è da Angelina Jolie, Sharon Stone, comunque è un'icona di charme, di bellezza insomma ognuna ha una caratteristica, anche italiane per esempio mi viene in mente la Cortellesi, la Mezzogiorno sono tutte attrici molto impegnate, molto toste, quindi secondo me poi alla fine non c'è un'icona singola ci sono più attrici che sono valide della scena internazionale non a cui mi ispiro e che ogni giorno guardo anche ultimamente anche la Scarlett Johansson mi è piaciuta moltissimo insomma ce ne sono tantissime brave e l'importante è saper cogliere alcuni lati perché poi ognuna ha la sua autenticità e sarebbe male dire vorrei essere quella significa che non sai niente tu, ognuno ha la sua autenticità e ognuno comunque deve prendere delle caratteristiche che possono ispirare, delle fonti di ispirazione dopo questo debutto che immagine vorresti che arrivasse di te come persona e come professionalità? ma un'immagine sicuramente nuova rispetto a un anno fa però sicuramente contemporanea e autentica rispetto al mio personaggio, cioè una donna che vuole studiare, che vuole impegnarsi per ottenere quello che sogna, di una donna che si mette in gioco continuamente e che vuole dimostrare di essere professionista tanti auguri per il suo futuro a Sara Tommasi ma un'immagine sicuramente